Un saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitanata in Sport Magazine, davvero oggi ricca e per questo non perdiamo altro tempo e tuffiamoci subito nel mondo della palla a volo femminile. Serie B1, girone D, Nissan Volley Maglie batte purtroppo la di Lillea Libera Virtus Cerignola per 3-7-1 e invece finalmente la BCC SGR Volley Manfredonia vince in casa contro Acqua e Sapone Roma per 3-7-1. Come vedete dalle immagini rubate dalla bacheca di Antonio Blasotta che salutiamo, le ragazze sipontine hanno vinto questa partita e questa vittoria è davvero importante come il pane per la classifica, appunto raggiungono i 15 punti sebbene siano penultime, però l'importante era muovere questa classifica. In classifica invece la di Lillea Libera Virtus Cerignola è un po' più su a 20 punti, una posizione un po' più tranquilla. Scendiamo di categoria, serie B2, girone I, la pallavolo Cerignola è Corsara a Catania contro Maya Dentis Catania per 3-7-0. Ormai non fa più notizia la vittoria di queste fantastiche ragazze che adesso sono al 37 punti e al secondo posto in classifica a solo tre lunghezze dalla capovista Ecuba Futura Palmi. Davvero ancora complimenti alle ragazze di Mister Filannino. Serie D, girone A. Come vedete dalle immagini, purtroppo l'Olimpia Ortanova perde in trasferta contro pallavolo Modugno per 3-7-0. Tuttavia una discreta partita per le ragazze di Antonio Massa che salutiamo. La SVG Energia Lucera batte progetto Batte per 3-7-0. Davvero tanti complimenti alla coppiata dei Mister Danilo Barbaro e Fausto Baccari. E come vedete dalle immagini, cui ringraziamo tutto lo staff, la Foggia Volley vince in casa contro Pianeta Sport Bitetto per 3-7-0. Un momento d'oro per le ragazze allenate da Valeria Di Mauro che ricordiamo sono saldamente al terzo posto a 37 punti. Purtroppo Farmacia Fars Lucera non riesce l'impresa di battere la capovista Just British Volley Bitonto e perde in casa per 3-7-0. Un risultato purtroppo scontato sebbene le ragazze lucerine si siano davvero impegnate in questa partita. Adesso tuffiamoci nel mondo della pallavolo maschile. Serie C, girone A, c'era il derbissimo tra l'Enrico Tecnomaster.biz Cerignola e la DS Group Lucera che ricordiamo essere prima e seconda in classifica e il derby va in favore dei padroni di casa, appunto i Cerignolani, che battono agilmente i rivali lucerini per 3-7-1. In classifica sono sempre primi a 38 punti, a più 6, proprio sulla DS Group Lucera di Mister Furno. L'Unipolsai Lucera purtroppo perde contro Trivanium per 3-7-0. Set molto molto tirati, basta citare appunto il parziale dell'ultimo set, che possiamo dire tranquillamente una maratona, appunto si chiude 35-33. Complimenti ai coreaci e ai ragazzi lucerini che comunque non si sono dati per vinti. Adesso cambiamo sport, parliamo di pallacanestro maschile. Questa volta dobbiamo parlare del terzo stop della cestistica di Sansevero, che appunto perde in trasferta contro Porto Santerpidio, Malloni Basket Porto Santerpidio per 86-80. I ragazzi sanseveresi hanno provato fino all'ultimo a rimontare nel quarto set, pardon, nel quarto quarto. Non ci sono riusciti e questo è davvero un peccato, sebbene in classifica sono saldamente primi a 42 punti. Parliamo invece dell'altra squadra, la Castellana Udas Cerignola. Finalmente sono tornati i cannibali, che hanno vinto appunto a Nardò un altro derby, imponendosi in trasferta per 76-67. In classifica i ragazzi cerignolani salgono a quota 16 punti. Speriamo appunto si riescano agilmente a salvarsi. Scendiamo di categoria, Serie C Silver, girone A. Nuova pallacanestro Monteroni batte Silac Manfredonia per 74-73, un solo punto di differenza. Ci dispiace tanto per i Sipontini, che comunque hanno disputato davvero una buona partita. Mentre la Sancia in Vieste vince in trasferta contro Ruvo per 68-55. Complimenti a Francesco De Santis e a tutti i suoi ragazzi. In Serie D, come sapete, il campionato è finito e aspettiamo domenica prossima per l'inizio dei play-off e play-out, dove saranno impegnate entrambe le nostre formazioni, la Diamond per i play-off, qui facciamo davvero il nostro più grande in bocca al lupo. Stessa cosa, ma per la sarvezza, appunto i play-out, sarà impegnato il Cus Foggia. In promozione, girone A, rapida carriata di risultati, Basket Lucera perde contro Sveva Lucera nel derbissimo risultato finale 59-86, la Virtus Foggia perde in casa contro Nuova Virtus Corato per 74-79, New Basket Barletta batte Frassati San Giovanni Rotondo per 77-66, peccato per i ragazzi di Armando Radeglia. In classifica, la Sveva Lucera è saldamente prima a quota 30 punti, un po' più giù ci sono i ragazzi della Virtus Foggia a 18 punti, seguiti proprio dalla Basket Lucera a 16 punti, infine ultimo posto per la Frassati San Giovanni Rotondo, fermi al palo a quota 6 punti. Per quanto riguarda le ragazze, ricordiamo che la squadra femminile di basket della magnifico Basket Sansevero giocherà lunedì alle ore 19.30 in casa contro i Delfini Monopoli. Davvero un caluroso in bocca al lupo alle ragazze di Carlo Magnifico che in classifica sono in una posizione abbastanza tranquilla con 8 punti. Cambiamo sport, rugby, parliamo di Serie C2 dove il Foggia Rugby, come potete vedere dalle bellissime immagini, vince contro Modugno per 62-0, un parziale di 10 mete a 0, davvero complimenti a tutti i ragazzi. Le mete sono di Renzulli, De Santis, 2 di Daddario, Sacco, Saponaro 2, Corvino, Leonardo e Cassinese Antonio. Spero davvero di aver detto tutti, è nel giusto ordine. Per quanto riguarda la palla a mano, ritornava a giocare la Serie A2 con la free time Manfredonia che compie l'ennesimo miracolo vincendo in trasferta contro la Lazio per 30-28. Adesso parliamo tra virgolette di altri sport, esordiamo con il Takendoo perché Maristella Smiraglia trionfa all'Egypt Open, uno dei più importanti gare di Takendoo internazionali. La giovanissima Foggiana, come potete vedere dalle immagini, un po' anche di repertorio, vince loro battendo la compagna di squadra per 13-5 Dalila D'Ambra. Davvero complimenti Maristella, siamo davvero tutti orgogliosi di te. Ora parliamo di tiro con l'arco e ottime soddisfazioni per l'ASD Arcieri Somni, associazione di tiro con l'arco operante anche a Biccari. Ai campionati italiani che si sono tenuti a Rimini, buone prestazioni nella specialità Campound. Appunto Rosa di Candia, senior, si è qualificata al 14esimo posto a pochissimi punti per accedere agli scontri diretti per il titolo assoluto. Da sottolineare che questa ragazza è incinta al settimo mese ma ha voluto gareggiare, quindi davvero doppio applauso. Invece Francesca del Re, di soli 15 anni, si è classificata al nono posto assoluto nella classifica, nella regionale. Queste ragazze avrebbero ottenuto il pass per poter partecipare al campionato italiani ma per problemi personali non hanno potuto, è un peccato, ma questo testimonia davvero come questa associazione stia davvero facendo non bene ma di più. E cogliamo l'occasione per salutare l'amica presidentessa Angela Fiorella. Penultima notizia di giornata, appunto subuteo, con grande soddisfazione in casa foggiana, con il quarto posto vinto da Angelo Renzi all'Open International di Napoli, categoria under 12. Vogliamo sottolineare che il nostro Angelo, che vedete appunto nelle immagini scorrere, ha solo 9 anni e mezzo. Qui lo vediamo premiato dalla leggenda Massimo Bolognino, vincitore di oltre 17 titoli mondiali. Davvero complimenti a te, insomma, ti auguriamo una grande carriera. Bene, l'ultimo servizio è un po' autoreferenziale, però è quella sorpresa di cui tanto parlavamo nella precedente puntata. Appunto vogliamo parlare del nostro appuntamento prossimo a Bieste. Gargano sui pedali, come vedete dalla Locandina, Capitanate Sport è partner di questo evento. Adesso vi pubblichiamo, o meglio pubblichiamo solo la Locandina, nelle prossime puntate vi terremo aggiornati. Ovviamente seguiteci per tutti gli amanti delle due ruote, non solo. Vogliamo solo anticipare che ci saranno tante altre manifestazioni sportive nel comune di Bieste, ma davvero questa è un'anticipazione. nelle prossime puntate vi daremo tutti i dettagli. Bene, ringraziandovi per il cortese seguito e vi auguriamo davvero possiate seguirci anche nelle prossime puntate. Colgo l'occasione ancora per ricordare di inviarci tutti i video, le foto, a info-capitanataisport.it. Bene, questo è davvero tutto. Ci sentiamo alla prossima. Viva lo sport della nostra terra. Grazie ancora. Salve.